Ehm, l'audio va, ragazzi. Non capisco qual è stato questo problema, io sto guardando la barra dei decibel, c'è. Tutto bilanciato come sempre. No, ovviamente, allora, se avevi quello però non avevi roba difensiva. Cioè, pure quello era il concetto. Cioè, dovevi, in genere, tu bilanciavi un po' mettendo armor. Magic Resist. Ovviamente, nel caso in cui i nemici avessero sia danno AD che AP. Armor, Magic Resist. Un po' di AP e un po' di Magic Pen. Serie AD invece ho un po' di AD e un po' di attack speed, insomma. Capito? Devi bilanciare uno, ovviamente. Non è che potevi per forza mettere... Sì, potevi far tirone full AP, full AD, però senza armor, poi lo prendevi nel culo, ho capito? Il concetto era quello. Però, da questo punto di vista, se andavi... Se volevi trollare, ti potevi mettere... Poi c'era un sacco di errori estremi, ti potevi tipo gold per... Cioè, potevi arrivare ad avere più tre gold ogni dieci secondi. C'era un sacco di errori inutili, meno tempo da morto. Cioè, c'erano delle errori ragazzi che erano imbarazzanti, veramente, completamente inutili. Io non ho le emotes qua, non so perché. Era diverso. A livello di... Di... Di concept adesso è molto più bello, cioè, è molto più personalizzabile. C'erano un sacco di cose che prima non esistevano, tutte queste comet da Carvest Predator. Un sacco di interazioni molto più belle. Però mi manca quell'ignoranza che c'era una volta. Mettevi tutta roba flat. C'era un sacco di attack speed. Cioè, era... Era diverso. Per questo dico che secondo me dovevamo fare un po' una fusione delle due cose. Un po' l'hanno fatta quando hanno giunto in un secondo momento. Quando hanno giunto in un secondo momento... Oddio, me l'ha one-shottata! Mi ha one-shottato la box. Questo è ambiguo. Mi ha one-shottato la box. Però le pizze se le prende. Vabbè. Proprio passi... E' partito super aggressivo. C'ha anche l'ignite, quindi... Stiamo attenti. Questo lo perdiamo. Questo tende è veramente cattivo, comunque. Trinda. Deve stare attento però anche lei. Lo ammazziamo, lo ammazziamo. Si muove, è veramente strano, sto trinda, qua. Avessi il mana, qua. Non ho il mana per fare la Q, purtroppo. Aha. Forse potevo ammazzarlo se andavo in DQ. Ok. Dato back. Si perde un bel po' di minion, comunque, lui. L'ignite. Eh, lo so, ragazzi. Poteva salvarsi, in realtà. C'era 200 HP. Quanto mi faceva l'ignite? 130. C'era anche la cuora di Q. Fa molto poco danno adesso l'ignite. Meno di quel che sembra, fidatevi. Quindi boh, ho voluto giocare così. Volevo lasciargli un po' di respiro, dai, poverino. Teniamo il TP? Sì, sì. Pusha verso i mella lane. Ai, ai, ai. Sassimo, grazie mille del quarto mese. Bentornato a Matrix Army, caro. Bentornato. Non avevo mana per fare Q, quindi. Max ha la W. Con lei pochi di più, però sto Trynda, boh. Mi sembra così addormentato, non lo so. Dai, Trynda. Madonna santa. Che flemma che ha sto Trynda. Dove è andato? Dov'è? Trynda! Ma guardalo, ma perché scappa? Ma all'inizio era cattivissimo. Cosa gli è preso? Trynda! Si svegli! Ho un po' addormentato, ragazzi. Vabbè che si è fatta una certa ora ormai, eh. Vedete, Quignetton l'avrei ucciso. Ora però sì. Bisogna aspettare il momento giusto, ragazzi. Non abbiate fretta. Se essi usato l'Ignite prima, lui si sarebbe salvato. E sarebbe andato back. Bella Fiero Fieric, sei proprio un bel ragazzo, ma quello sciacco proprio non mi piace. Adesso mi disiscrivo. Cosa? Si scherza. No flame, per favore. Ma lei non gioca con me. E prendi! Vabbè. Grazie mille, Bajuro. Grazie mille, caro Drichirs. Via! Ok, non so dove sono andati, ma da qualche parte sono andati. Do ti pare? No. Tanto in da push. Grazie, qua è ci, cazzo. Sciacco top, ragazzi, mi piace veramente tanto come pick. Lo considero debole. Però è divertente, cazzo. È veramente divertente, con ste box qua. Poi ste box che fanno danno e... Cioè, adesso, boh... Prima facevamo molto più danno in single target, ok? Adesso pushano meglio, questo è... Nulla da dire. Beh. Mi dispiace che questa lane in phase sia un po' noioso, ma sto trend, ragazzi, è veramente addormentato, cioè. Cioè, non è solo una questione di essere scassa, è proprio... È annichilito, ragazzi, è impotente, non lo so. Dai, Trinda, gioca con me, per favore. Ecco qua. Za. Za. Vabbè. Si svegli! Mamma, se sta dormito, ragazzo. Bella, ragazzi, fieri kello, fieri cringe, fieri cringe, fieri cringe. Uggs Sansman! Grazie mille, caro. Fieric cringe. Grazie mille, carissimo. Di questo sub. Galio, Galio è un cesso, adesso. C'ha tanto utility, però... Non è quello che c'è in solo Q, ecco. Magari, quando giochi con qualcun altro, che c'è un minimo di... Come si dice? Un minimo di sintonia, ecco. Altrimenti, boh... Sì, Trinda, sì. Sì, Ekarim. Ok. Trinda? Sì? Dica, Trinda. Prenditi questo, Trinda. Oh, ci stiamo lì di scotch. 8 HP. 8 HP. Sta facendo addormentare anche me, però, questo ragazzo. Ekarim si è reso subito. Ekarim sembrava l'Italia nella seconda guerra mondiale. Oh! Aia, Ekarim, che danno. No, ti prego, Ekarim, no. E tanti saluti. Ekarim, che combinate, Ekarim! Mamma mia, Decro! Grazie mille, cheers, bello, ti dedico questa kill. Ma ormai nemmeno a dirtelo. Grazie mille, De. Shack è difficile da giocare. Per quello che ti dà, effettivamente sì. Cioè, nel senso, un po' un cesso. Esplicemente per me è quello. Cioè, a livello di efficienza fa schifo. L'unica cosa forte è l'effetto sorpresa. Con la ulti puoi fare delle cose carine, però... Sono jungler che fa molto più danno. Jungler che gankano molto meglio. Jungler che tankano molto meglio. Che fanno gli obiettivi molto meglio. Cioè, il fatto che... Cioè, rispetto a Shack, sono tantissimi jungler che fanno un sacco di cose molto meglio di Shack. È una cosa che cond... È un destino che condilige con Jace. Cioè, io e Mauro abbiamo avuto questa sfiga. Sia Jace che Shack sono dei campioni che... Non fanno schifo. Ma ci sono mille campioni che fanno le stesse cose molto meglio. Concettualmente è così. Cioè, io la vedo così. Buonasera, Infinite. Quante sub-buy? Circa 2005. 2005. 2005-34. Zack! Qua tanto voleva maxare la Q con l'AE contro sta ragazza. Ok. Poi che pacchia col blue buff. Trinda! Ti vedo spento, Trinda. Che succede? Che succede, Trinda? No, no. Ah, l'hanno attivata lo stesso. Vabbè, capirai. Ecco, ho rubato il drago! Ma ecco. Sti stereotipi qua. No stereotipi. Deco, grazie mille di sti sub giftati. Ormai c'è manco più gusto. Ti dico questo. Alla, 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 alla! Niente. Non ce l'ho fatta. Scusa, Decro. Non merito questi sub. Decro the boy. È sempre lui. Sempre giftare sto ragazzo. È il babbo natale della live attualmente. Nulla da dire. Nulla da dire. Fammi schippare sti alert qua. E dopo c'è anche picco ferra. Grazie mille, caro del Prime. E benvenuto. Che segui la scè di Decro. Continua così Decro che vedo che sta invogliando anche altra gente a subbare. Tac. 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 Ma io non mi muovo dalla Topin. Oddio. E mo' ho poca vita, Trinda. È giunto il tuo momento. Dai. Vai, Trinda. Ecco. Oddio, Trinda. Che succede, Trinda? Mamma mia, che cattiveria. Ha hittato quello giusto. Quando gli si è attivato il let al tempo. 50 e 50 ha attivato quello giusto. Goldriss è. Vado di Zonia. No, vado di Hitchbane. La mia leggenda preferita? Non ne ho una in particolare. Mi piace molto Trandol. Bella Kaneki. Buonasera. Decro che non ti fa più perdere tempo di abbonati con Amazon Prime. Minchia, davvero. Però se avete Amazon Prime, fate come Heavy Meek, grazie mille Heavy Meek del Prime. Benvenuto a Netflix Army, carissimo. Benvenuto. Purtroppo, amici, dovete sapere che nelle ultime due live, quella di oggi pomeriggio e quella di oggi sera, sono uscite righe merdosi. Avete preso proprio quando ci sono quelle giornate? No. A dire, niente, non devo vincere. Ecco. Se oggi pomeriggio e la sera è andata così. Quindi. Diciamo che stasera mi sto un attimo ripigliando. Ok. Purtroppo, può capitare. Come 20k, Alipsa? Che dice? Leggenda che so usare meglio. Ma non ce n'è una in particolare, effettivamente. Io sono molto versatile. Ehi, dov'è andata? Ma Trinda, ma scusami. Vabbè. Manco se arriva l'ignite, potete usare solo la protobelta, vabbè. Tac. 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 Gianni, no! Aiuto! Gianni, mi segue! Gianni, non lo fare! Eh! Madonna! Era guardato! Va bene, va bene. Ma quindi voglio andare di zonia, piuttosto che finirmi la... Piuttosto che finirmi questa, a sto punto. Oddio, questa però me la finisco subito. Che la zona è troppo comoda. Vabbè, dai sti cazzo, facciamoci questa. C'è soldi precisi. Gianni in chat! Eccoli lì, Gianni! Ce l'ho anche così, vabbè. Guarda lì, Gianni ragazzi, è intasato la chat, Gianni. Certo, Henry. Certo che sì. Bel free can cut ci sta. Buon mid laner? Io non me ne intendo, guarda. Veramente, veramente non... Per me i migliori sono quelli che sapete giocare, ragazzi. Onestamente. Boh, però a Fizz. Fizz è sempre buono, è sempre divertente, è sempre facile. Trinda! Come si è ammessi, Trinda? Ci siamo un po' svegliati. Ma, insomma... Mica tanto. Vai tranquilli, l'infinite. Che ho fatto oggi? Abbiamo giocato con Vincenzo in spagnolo. Così. E abbiamo vinto tre game di fila. Poi adesso sono un po' in normal a fare qualche picca a caso. Questa è la... Oppa la Trinda. L'abbiamo un po' bocellato, eh. Ah! 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 Mamma mia, bella per il naso sappi, comunque. È vero, è vero che questo... Ah, poi sono in un team di fan, ragazzi. Sono tutte e quattro premade e tutte e quattro mi seguono. Apparentemente. Sando l'account panic... Eh, Morgana. Capita anche, migliori non si scaldi. Non si scaldi, Morgana. Subbia. Vieni, Kata. Salta, Kata, salta. Vabbè. Scambio di coltelli, ragazzi. Manco... Manco a scampia. Eh, non ho fatto in tempo. Perma stunnato, raga. Dura un po' tanto sto stun, ecco. Male. Eh. Quello d'action è un cappato. Mangusta, devi accedere dal browser. Da Chrome o da Safari? Quel che preferisci. Non dall'app. Dall'app non lo so se si può. Dico un di sì, però boh. Oh, Gesù. È stato comico questo. Bravi ragazzi. Minchia, ma il morto si intera, Chiane, addirittura. È la madonna! Ma che succede? Vabbè. Allora fa un giro bot col tp, non voglio perdere tempo. We lost against this fucking noob Nasus. Che vergogna. Parole forti, caro Nasus. Queste sono parole forti. Please, Gianlu. È Gianni! Gianni, ma che succede Gianni? Gianni! Gianni in chat. Dove è andato? Guarda che l'attore mi vede se sono lì, eh. Non ho mai che tranto, non l'ho mai intratto le call. Sono gli bestemmiamo in faccia. Gianni, Gianni. Gianni, Gianni. Guarda lì che belle. Abbonateli anche voi per spammare le emot di Gianni, grazie. Inculiamo un po' di jungle. E vai! Sono tutti scombussolati, nemici. O comunque non male il mio team. Cioè il mio team comunque sta vincendo. Il team è bravo. Bravi ragazzi. Lo prendo. Lo prendo io. Ecco. E vabbè. Tanti saluti. Non mi usa il cronografo! Diglielo, Morgana, che non usa il cronografo. E Gianni! Gianni, no! Via. Questo mi critta per sbaglio. Scappate ragazzi, scappate! Ecco! Ecco! Ma questo l'ho già usato. Ragazzi, ma... Ma questi non ultano! Trind ha ultato male, quell'altro non ha proprio ultato. Ecco. Ecco qua, ragazzi. Funziona sta merdata qua. Ma giù! Doviciarmi un po'. Ma non funziona, ragazzi. Non ci crede nessuno. Eh! Eh! Ah! Gianni! Dov'è andato? Dov'è andato? Dov'è andato? Eh. Ho troppa paura. Sarà. Vabbè, prendiamo questo e anche questo a sto punto. Bella, Sunsman! Buonanotte! Abbiamo il doppio dei loro kill. Ho preso pure un assist. Mi ha dato due stacchi di Mejai. Ho preso come una box qualcuno. Trinda! Trinda! Che schifo, i poveri! Decro, donate l'euro 10.69. Abonatevi con Amazon Prime. Ahè! Decro, grazie mille davvero per... Per tutti sti soldi. Io non so più che dire. Lei ha vinto la lotteria. Lo dica. Eh! Qua c'ha troppo Magic Resist. Ti dico, l'ennesima kill. Eccola! Attenzione Gianni. Gianni pure ci saluta. Double kill. 10, 10. Guarda. Non osano loro. Ah! Vabbè. Per un altro kill ne valsa la pena. Sì, Calypso. Può prendere quasi tutte le attivabili. Principalmente tutte. GG. Stanco ma felice. Yo-heh! Qua la scelta dell'onor è difficile, ragazzi. Siete stati tutti bravissimi. Onoro Nasus giusto perché ha fatto il Nasus AP. Solo per quello. Ma siete stati tutti bravissimi. Tutti bravissimi. Ma io... Vabbè, ragazzi. Ma Trindan l'ha giocato. Ma che livello... Ma forse è un livellino, non lo so. Mi dispiacerebbe quasi per lui. Eh, al 30. Sarà appena salito, poveretto. Eh, vabbè. È stato un onore. Bravi tutti. Ha vinto lo sport. Sei onorato di fare un'altra? No, per me basta. Buon proseguimento. Ecco qua. Pieric, sì. Che vuole bene i suoi sudditi. Oist, guarda. All'inizio di questa live ho giocato con Vincenzo e abbiamo fatto Alistair Rudir Botlin. Finne.